Maledetta 106, ancora una volta facciamo i conti con la morte che continua a ricordarci quanto sia giusto chiamarla la strada della morte e mentre come al solito in questa città e territorio ci si contende il primato sull'ammodernamento della strada, la 106 continua ad essere una strada in cui tante persone hanno perso la vita. Anche questa notte sulla 106 all'altezza dell'ex per Tusola un'altra persona, un altro nostro concittadino, è morto in un incidente stradale. Vincenzo Perna, 41 anni, era a bordo del suo scooter con il figlio dodicenne mentre rientrava dai campetti. Cecè, così come lo chiamavamo tutti gli amici, è morto sul colpo. La sua moto è stata tamponata da un Alfa Romeo Giulietta che viaggiava nello stesso senso di marcia. Il figlio è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone, il 118 e la polizia per i rilievi. Vincenzo Perna, Gegè, un amico di tutti, simbolo del quartiere Fondo Gesù. Era noto tra i crotonesi per il suo passato calcistico-direttantistico, nella sua gioventù prima una carriera da giocatore e poi da allenatore e dirigente. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Uno scontro fatale per Vincenzo Perna. Maledetta 106, la strada che nel tempo vede sempre di più allungare l'elenco delle persone che hanno perso la vita. Una strada che attende di essere ammodernata, ma non c'è nulla di nuovo, perché continua ad essere la strada in cui la vita si ferma con la morte e le famiglie si ritrovano a vivere un momento di dolore inaccettabile. E se oggi siamo tutti attoniti per la perdita di Gegè, dovremmo avere il coraggio di alzare la testa e di dire basta ad una inefficiente attività per l'ammodernamento della 106. Gegè, sarai sempre nei nostri cuori. Ti abbiamo conosciuto e visto crescere con la tua ironia e la tua simpatia, che ha sempre coinvolto tutte le persone che oggi si stringono attorno alla tua famiglia. 41 anni, la tua breve vita si è conclusa al ritorno da Margherita, dove per la tua passione per il calcio è riandato ai campetti di Macrillò per arbitrare una partita organizzata in un torneo amatoriale. Maledetta 106, siamo al colmo della sopportazione. Basta con le parole e si passi ai fatti, nel rispetto che dobbiamo portare a tutte le vittime della 106.